Musica In nuovo in diretta il segnalibro, lo spazio che qui a 56 live come di consueto dedichiamo alla lettura, a un consiglio per la lettura. Abbiamo parlato anche in apertura quanti temi, quante riforme sono sempre nell'agenda turbinosa, agenda politica del governo in questi giorni, eppure c'è un tema che sembra sempre dimenticato nel centro del dibattito dell'agenda politica. La questione meridionale, quella dell'Italia che almeno una volta andava a due velocità, e adesso vedremo se va ancora a due velocità, del rapporto tra nord e sud, meglio insomma tra nordici e sudici, titolo del libro che presentiamo oggi. Sottotitolo, molto ci unisce, troppo ci divide, edizioni Diana, l'autore, buonasera in studio, Riccardo Scarpa, ben trovato, giornalista del tempo, insomma non solo autore anche televisivo, che ha pensato, Riccardo io chiarisco subito, che ricordando che c'è la prefazione di Stefano Folli, l'introduzione è di Matteo Salvini, segretario della Lega, tu sei di Caserta. E quindi insomma mi viene in mente come nasce l'idea di questo libro su una questione che sappiamo in Italia insomma annosa. Nasce sulla scorta di una situazione che in effetti è di un problema, anzi che probabilmente non sia ancora risolto a 150 anni oltrepassati dall'unità d'Italia. E dalla constatazione purtroppo amara per noi meridionali, ma credo dovrebbe essere anche per tutti gli italiani, che il divario famoso, storico divario fra il nord e il sud in effetti non è stato mai colmato. E purtroppo bisognerebbe incominciare a riflettere sulle cause, sulle ragioni per cui questo divario non è stato risolto, soprattutto non è stata risolta la questione meridionale. Cosa che tu fai insomma in maniera puntuale in questo libro, però Riccardo vorrei chiederti, insomma l'Italia si è sempre detto va a due velocità, la locomotiva del nord, il triangolo industriale, e poi c'era il sud vittima o colpevole insomma dell'assistenzialismo, quello si è sempre detto. Non vorrei però che la crisi recente avesse ridotto le velocità da due a una, ma che anche il nord si sia instradato sulla velocità più bassa. Sì, purtroppo questo è il problema, in effetti stiamo andando verso una situazione estremamente delicata, cioè non esiste più soltanto la questione meridionale, sta incominciando ad emergere anche la questione settenzionale, che però si collega a tutto quanto la parte più ricca del paese, e direi soprattutto i governi del paese, non hanno fatto per riscattare il mezzogiorno e per portarlo a livello della parte più progredita del paese, che è appunto il famoso triangolo industriale, comunque il nord. La locomotiva del nord, come viene volgarmente definita. Scrivi nel tuo libro, tanto per far capire quanto da lontano parte questa questione, parte anche da prima in realtà, però scrivi De Gasperi quando andò al governo nel 1946, disse che il problema fondamentale del paese era il mezzogiorno, spiegò che se l'Italia fosse stata in grado di recuperare il sud, sarebbe potuta diventare una delle prime nazioni europee. Ma infatti il problema è il problema di oggi, che non solo di oggi, ma di tutti i governi più recenti degli ultimi 50 anni, è stato proprio il non tener conto di questo punto di partenza. De Gasperi, con una grande visione da statista, capì che la questione meridionale, il progresso, il riscatto del mezzogiorno, era fondamentale perché il paese poi diventasse non solo più unito sul piano anche sociale, ma fosse anche più progredito e più ricco. In effetti tentò quella che oggi di recente è stata fatta con la Germania, la parte più povera del paese che era l'ex Germania comunista, è stata riallineata con grossi sforzi alla Germania dell'Ovest e praticamente è diventato un paese oggi unito e anche ricco. De Gasperi intuì questa necessità e infatti nel 1950 fu l'artefice della creazione della Cassa per il Mezzogiorno, che è stato nei primi dieci anni un istituto esemplare per le realizzazioni e per il progresso del paese, per il riscatto anche del Mezzogiorno. E poi che è successo? Poi è successo che la Cassa per il Mezzogiorno era naturalmente un istituto dotatissimo di risorse pubbliche. Nei primi dieci anni la tecnocrazia della Cassa per il Mezzogiorno, cioè i progettisti, perché quello era il compito precipuo, la missione precipua della Cassa per il Mezzogiorno, hanno prodotto 13 mila chilometri di strade, serbatoi, laghi artificiali, fogne, insomma l'Italia si è incominciata a diventare moderna. Che succede dopo i primi dieci anni quando la Cassa è stata rifinanziata, anche abbondantemente, che la politica meridionale in particolare ha capito che c'era da lucrare su queste risorse pubbliche e ha utilizzato una legge del 29 che era fatta da Mussolini che concedeva, che riconosceva a Mussolini la possibilità di essere arbitro assoluto nelle opere pubbliche, che pure il fascismo ha fatto, ma comunque lui poteva scegliere, decidere, stabilire la dotazione economica e seguire la realizzazione. Ed era il cosiddetto concessionario. Il concessionario è sopravvissuto dopo i primi dieci anni della Cassa ed è stato l'ambito in cui la politica meridionale, politica spesso clientelare, ha fatto irruzione incominciando ad utilizzare le risorse che erano state, che dovevano essere riservate soprattutto alla progettazione per piccole opere pubbliche, soprattutto per clientele e affari locali. E da allora è stata la degenerazione totale. Se tu affronti, anche perché per il tuo lavoro sei occupato di zone di guerra, ma anche di politica molto a lunga, quindi affronti anche con puntualità cosa è stato fatto dal 1956 in poi, nei diversi governi che si sono succeduti. Prima però di fare questo breve excursus, vorrei chiederti, a partire la domanda da un milione di dollari, dove cominciano le colpe dello Stato centrale nel mancato sviluppo del mezzogiorno e dove cominciano invece le colpe del Sud nel mancato sviluppo? Le colpe purtroppo partono da lontano. Tu pensi, è un dato che secondo me è fondamentale. Nel 1860, quando c'è stata l'impresa dei mille, l'unificazione, praticamente l'annessione, la differenza tra la Lombardia, il Piemonte e la Calabria, la Sicilia, in termini di reddito pro capita, era soltanto del 26%. Tieni conto che il Regno delle Due Sicilie adesso si incomincia a riconoscere che era uno degli stati più ricchi e più avanzati d'Europa. Cento anni dopo, quando abbiamo celebrato il centenario dell'unificazione d'Italia, questa differenza era salita al 174%. Per assestarsi poi negli anni successivi, più o meno oggi, al 100-110%. La differenza di oggi fra Piemonte, Lombardia e Calabria supera il 200%. Questo ti dà la misura di come la questione... La forbice proprio si è aumentata. Sì, tutti i governi che si sono succeduti, a parte una parentesi, un miracolo economico dopo gli anni 50, hanno considerato il mezzogiorno una palla al piede e suscitando però una reazione dei meridionali, secondo me, negativa, che hanno detto, ci avete voluto, come se avessero detto, ci avete voluto, adesso pensateci voi, e quindi il dilagare del clientelismo meridionale con degenerazioni che sono state anche abbastanza gravi, alle quali io non faccio sconto. A parte la Cassa per il Mezzogiorno, il modo come è stato gestito il terremoto, i 60 mila miliardi del terremoto di Rimini, Irpinia e Basilicata, sono stato uno scandalo nazionale, lo scandalo dell'immondizia, la contiguità con le mafie locali, del potere politico con le mafie locali, è in tutto un episodio politico, ma che dà la misura del dramma meridionale, che è, secondo me, il sequestro Cirillo. Cirillo, subito dopo il terremoto, fu sequestrato e intorno a questo personaggio, che gestiva le grandissime risorse per la ricostruzione dal terremoto, si è creata un'alleanza e quindi una legittimazione fra politica, Brigate Rosse e Camorra, quello che non si era fatto per Moro, per il quale, mandato al sacrificio per l'intransigenza dell'ADC, che non voleva trattare con i brigadisti, in Campania è accaduto e da lì è stata una situazione che è andata peggiorata, peggiorando sempre di più. Negli anni, tanto che appunto attraverso questo escursus, arrivi ai giorni d'oggi, arrivi a Matteo Renzi, più recente protagonista sulla scena politica nazionale, al quale, così come i tuoi conterranei meridionali, non fai sconti. Non faccio sconti perché il governo Renzi, Renzi in particolare, nella presentazione del suo governo, è stato il primo che non ha tenuto conto, non ha detto una parola sul mezzogiorno, che pure è una questione vitale per il Paese. Lui è andato, due giorni dopo la sua nomina Presidente del Consiglio, in una scuola siciliana a farsi sentire l'inno che avevano preparato i... Ficotanto il famoso coro, insomma. Il famoso corretto per Renzi. Nel maggio scorso è andato a Napoli, nella prefettura di Napoli, siccome è un affabulatore capace di suscitare simpatie, ha riconosciuto che il regno di Sicilia era un regno ricco, avanzato, uno dei più avanzati d'Europa, la più bassa disoccupazione, il più alto reddito pro capite, la disoccupazione a zero, il rapporto debito-pil del 17%, tasse bassissime, una pressione fiscale assolutamente quasi inesistente. Dice quindi, voi non siete una palla al piede del Paese, ma perché dovete risorgere, dovete. Risultato, un mese fa il decreto, la legge del Rio per l'assetto idrogeologico nazionale è finanziata con 9 miliardi tolte tutte le regioni meridionali, le quali regioni poi entro il 2018 saranno private di altri 8 miliardi di finanziamenti. Di conseguenza, come può una questione meridionale, il dramma meridionale, pensa che la disoccupazione giovanile è del 43%, cioè un giovane su due non lavora, come può essere risolta. C'è anche però in questo, secondo te c'è stata negli anni, insomma, poi nel libro lo dici, anche un'incapacità di chi ha governato, parlo degli enti locali, delle amministrazioni, nel meridione di, uso un termine forse improprio, di meritarli questi soldi, di dare l'impressione di meritarli questi soldi negli anni. Cioè c'è anche questo alla base di queste scelte? Certo, no, no, no. Magari troppo drastiche, no? Alla base di queste scelte e anche di questi problemi c'è una classe politica assolutamente non all'altezza della... E qui è una questione civile. I meridionali dovrebbero imparare a scegliere meglio i politici che li rappresentano. Tu pensa che per il prossimo periodo, che va fino al dicembre del 2015, i fondi europei per il recupero delle aree sottosviluppate saranno di 30 miliardi, 17 dell'Europa e 13 dello Stato italiano, del governo italiano. Questa, il meridione, tutte le regioni meridionali, a parte qualche raro esempio in Puglia, non sono state capaci nel periodo precedente di utilizzare i fondi europei che poi sarebbero state non solo la possibilità di creare opere pubbliche, ma di conseguenza creare del lavoro. Posti di lavoro, certo. E quindi la gran parte di questi fondi sono ritornati all'Europa dirottati verso paesi che ti devo dire come l'Estonia, la Lettonia, la Lituania, bravissimi a presentare i progetti perché un altro dramma del mezzogiorno è l'improvvisazione con cui vengono presentati i progetti per utilizzare i fondi strutturali e di conseguenza vengono bocciati perché considerati non finanziabili. Si perde un'occasione che secondo me è l'unica ormai che consentirebbe alle regioni meridionali di ritornare a progredire di crescere. Ho pochissimi minuti, però due domande che voglio farti assolutamente. Hai scelto Stefano Folli per la tua prefazione perché volevi dare un taglio magari insomma prettamente anche economico al tuo libro. Sì, Stefano Folli perché è un collega molto bravo che soprattutto ha una visione sia politica sia economica dei problemi e quindi poteva gli ho chiesto l'onore di avere una sua prefazione proprio perché desse un'impronta un indirizzo e anche una spiegazione al perché di questo nordici e sudici che è una frase di un pregiudizio di un socialista riformista come Prampolini che 40 anni dopo l'unificazione ideale continuava a dire che l'Italia si divide in nordici e sudici e dava la misura del pregiudizio che poi dura ancora nei nostri giorni. Ecco, visto che quella sul titolo era l'ultima domanda allora te ne faccio te ne faccio un'altra e leggendo insomma un po' le pagine del libro io ho provato a a tradurre un po' in immagini quello che scrivevi non so perché a me è venuto in mente il crollo di un pezzo di muro a Pompei di mura antica io non so con quale immagine tu diciamo descriveresti o quale cartolina accompagneresti il tuo libro. No, ma pensa che quando sono creato il muro dei gladiatori a Pompei ci fu una grossissima polemica allora era Bondi ministro dei beni culturali e dopo una serie di polemiche che sono durate che sono durate anche settimane Bondi ha minacciato le emissioni poi si è dimesso si è scoperto che c'era una disposizione dei fondi europei che non erano stati utilizzati perché erano ritornati praticamente alla casa madre ed è stata da queste che erano circa un miliardo questa somma è stata in qualche modo recuperata dopo dal ministro della coesione territoriale che era nel governo Monti e che è riuscito a riportare questi fondi dividendoli in parte fra il restauro del muro dei gladiatori la reggia di Caserta che pure cade a pezzo un gioiello che cade a pezzi e il museo di Reggio Calabria dove non si riesce a mettere i tesori a risporre ai tesori perché non ci stanno i soldi quindi questo per darti la misura di come anche la classe politica amministrativa meridionale è assolutamente insufficiente e spessissimo incapace di utilizzare delle risorse che sono a loro disposizione che sarebbero a disposizione prima di saluti sintetizzano 30 secondi invitando i telespettatori a leggere Nordici e Sudici l'invito a leggere questo libro per capire perché la questione meridionale non è ancora risolta e per incominciare a riflettere sulle nostre responsabilità dei settenzionali e dei meridionali grazie Riccardo Scarpa giornalista del tempo autore di Nordici e Sudici Molto ci unisce e troppo ci divide è il sottotitolo che dà un po' la misura anche dei contenuti di questo libro edizioni Diana lo ricordiamo grazie Riccardo ci fermiamo per qualche istante di pubblicità grazie a te